Sì ragazzi la situazione per Huawei non è sicuramente facile il ban degli Stati Uniti voluto da Trump è sicuramente sempre più stringente ha intaccato anche la produzione dei processori perché i processori vengono si ingenerizzati internamente da Huawei parlo dei Kirin ma Huawei non ha le fonderie quindi vengono poi prodotti all'esterno e il nuovo ban ha intaccato anche quella produzione quindi i fondi di magazzino quindi forse la scappatoia con Mediatek arriverà comunque il Mate 40 Pro ma ragazzi questo P Smart 2021 mi sembra veramente accanimento terapeutico il display è un po' così così ha un LCD le prestazioni sono un po' così così vi dico solo che non ha l'NFC che è ancora mono band ma le buone notizie sono che non tanto lo sappiamo non ha i servizi Google ha i Huawei Mobile Services l'app Gallery sta crescendo tanto ho trovato tante applicazioni nuove ma Huawei io davvero ti voglio bene collaboriamo bene insieme provo i PC sono fantastici gli accessori vanno bene ma ti devi anche far voler bene e questo P Smart 2021 andiamo a scoprirlo insieme che poi io capisco anche le logiche del mercato bisogna uscire intanto qua non c'è la coverina ma forse la mia che è una confezione di preview bisogna uscire con modelli bisogna fare quote di mercato sì ma allora ringenerizzami un modello nuovo ma tienimi il processore vecchio non so fai qualcosa non fare questi ricicloni comunque super charge da 22 watt con la tipo c e c'è usb qua il telefono backing plastica tiene tanto le ditate 4 cam di cui la principale da 48 megapixel poi c'è la 8 megapixel grandangolare le solite due abbastanza inutili per l'effetto bokeh e per la macro sensore di prodotti digitali laterale qua sulla destra basta sfiorarlo per accendere il telefono poi c'è il pulsante per il volume anche il frame penso sia in plastica qua c'è il primo microfono o meglio la secondo qua il primo l'audio è mono qua sotto tipo c ovviamente non esce la parte video ma c'è il jack cuffie e questa è una cosa che mi piace molto come piace molto il fatto che lo slot sia triplo per mettere due sim più l'espansione di memoria stavo facendo doppio tap per sbloccarlo col pollicione no sono andato là di fianco cam anteriore con il foro nel display e vi parlo di si proprio di display diagonale 6,67 pollici per andare a vedere il video di youtube ho usato il browser perché vi dico subito ho usato questo telefono a questo giro come un utente standard quindi non ho installato app particolari mi sono voluto affidare all'app gallery comunque possibilità di cambiare soluzione anche dall'applicazione via web ma come vedete non si riesce a mettere a tutto schermo si può solamente mettere a schermo piccolo intero ma se faccio un pizzichino e niente me lo cucco così l'angolo di visuale è abbastanza buono ma i neri che non mi piacciono per niente sono veramente molto tendenti al grigio lo vedete se lo metto così di taglio l'altra cosa che non mi è piaciuta è che a non è particolarmente oleofobico ma soprattutto b non è particolarmente luminoso io ho fatto phone clone quindi ho portato le applicazioni dal mio vecchio smartphone android a lui quindi ci sono ce ne sono funzionano praticamente quasi tutte ma per esempio una cosa che vi segnalo che netflix se vado qua nelle specifiche di riproduzione come vedete non avendo i drm o meglio avendoci avendo gli l3 riproduce solamente in sd contenuti e quindi non in hd è vero che c'è huawei video tra l'altro tre mesi compresi nell'acquisto se lo preordinate poi alla fine vi dico il prezzo ma non è la stessa cosa huawei video deve ancora crescere non ci sono tantissimi contenuti come huawei musica ma comunque spotify funziona ripeto il problema qual è che se voi non trovate le applicazioni che avete fatto phone clone da un telefono a questo huawei nello store di huawei e se non vi installate store alternativi che si può fare anzi bisogna farlo a pk più insomma andate a vedere le altre recensioni che ho fatto di huawei ci sono tutti i consigli del caso le applicazioni non si aggiorneranno ma app gallery stavolta sto parlando del display vabbè parlo subito di app gallery è cresciuta tanto ve l'ho fatto vedere nell'esperienziale un sacco di applicazioni tante banche quelle cose che mancavano tanto agli utenti le banche sono arrivate ma qua per esempio non abbiamo l'nfc non possiamo pagare con google pay e il wallet di huawei ancora non va a integrare i pagamenti con carte e non va ovviamente nemmeno android auto tra l'altro anche il gps va bene ma ho visto dei telefoni che mi facevano navigare un po meglio parte telefonica andiamo subito a chiamare il 190 il dial era il classico e secondo me anche l'altra occasione persa e non aver presentato questo telefono già con la emotion ui 11 poteva essere un aggancio per ma sto zitto via voce bene purtroppo il dialer di huawei non prevede l'avviso dello spam la ricezione va bene l'unica cosa in via voce i microfoni se tenete lontano il telefono da voi non vi sentiranno benissimo dalle altre parti vi dicevo ancora emotion ui 10 la grafica è quella che è secondo me andrebbe un pochino svecchiato ormai ma verrà svecchiata emotion ui 11 in preview l'ho vista probabilmente arriverà ufficialmente sul mate 40 pro ma qua appunto non c'è 4 giga di ram 128 di memoria patch di agosto 2020 e poi vi parlo del trittico vi faccio vedere instagram che ripeto gira perché comunque non ha problemi a girare ma le storie vi stramentati quando ecco il telefono che non potevo di cui non potevo farvi il nome era questo qua il p smart 2021 un po la gosette un po tanto compresse qua è anche tanto colpa di instagram instagram che purtroppo ancora non si trova su app gallery dai 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 app gallery vediamo se mi sbugiardi adesso e mi fai trovare instagram no non ancora disponibile e vabbè però devo dire che ho trovato tante qui cap cosa sono sostanzialmente dei link ai siti mobile dei brand per esempio all'italia ieri sono riuscito a fare il check in e a fare la registrazione a fare l'imbarco tranquillamente dalla qui cap che è la quello che vedete qua più o meno funziona tutto vi ricordo che sono appunto app portate con il phone clone ci ho detto vi ho fatto vedere solamente instagram vi faccio vedere twitter come gira poi faccio vedere il gestore delle pagine ovviamente in assoluto non è un telefono che va male cioè non ci sono più telefoni che vanno male ma quando inizia un pochino a a chiedere voi iniziate a chiedere un po tanto al processore un po troppe applicazioni e beh farà un pochino di fatica però devo dire che è affidabile non si è mai inchiodato non mi sono mai usciti errori strani la vibrazione è così così le prestazioni sono quelle di medio bass di gamma c'è il game mode e lo vedete qua con app assistant che vi permette di aprire multitasking anche le applicazioni ci mette tanto le memorie non sono velocissime ad aprire real racing anche se c'è la gpu turbo come vedete prima o poi si aprirà e laggava un pochino anche avete visto all'inizio il gioco insomma torniamo a bomba 14 secondi mi sembra per aprire real racing la fotocamera la fotocamera anche qua 48 megapixel abbastanza bene la messa a fuoco mi piace molto la grandangolare sempre molto molto utile effetto bokeh modalità notte modalità apertura e poi la possibilità di fare i video fino al massimo del 1080 ve lo faccio vedere qua in schermo intero quindi non si possono fare né in 1080 60 fps né in 4k si però c'è lo switch stricam e questa è una cosa che mi piace sempre particolarmente vi faccio subito vedere i risultati vado alla home page vado qua nella galleria tra l'altro avete visto rai play da zone sky go ci sono applicazioni e alternative a netflix io mi fisso con netflix ma in realtà nel app gallery ce ne sono poi diverse che sono arrivate come vi dicevo le fotografie come vengono partiamo da questa che è una foto fatta con poca luce nel mio bunker poi sono stato a como a fare un giretto però una macchina elettrica foto normale foto grandangolare e poi qua la foto normale a questa che penso sia una torre di di como questa in realtà la prima era una foto zoomata mi sembra 5x e come vedete l'interpolazione sì ma ovviamente va un po' a sgranare perché non ha uno zoom ottico non vi ho fatto vedere quanto dura la batteria e meno male che lo screenshot mi ha salvato perché ho saltato a pie pari la batteria vi dicevo 25 wattora quindi 5000 mAh carica 22 non scalda particolarmente anzi non scalda praticamente mai si carica in un'ora e mezza quindi una carica veloce e devo dire che la batteria c'è anche perché i servizi google ciucciano 30 minuti di chiamate 3 ore 47 di display qua l'utilizzo che ho fatto qua la scarica abbastanza lineare ero a sera alle 23 e 59 con ancora il 43 per cento di batteria residua quindi direi sì quasi un battery phone ci ho detto tornerei alle foto che ho fatto che ho fatto ieri meno male che le foto mi hanno salvato la figuraccia di essermi dimenticato la batteria perché è uno dei punti forti questo telefono con poca luce devo dire sì dai sì sì ci siamo questo è un fantastico tramonto a bari un pezzettino di video ho fatto un incontro che bello ritrovarvi anche se distanziati è stato veramente bello riparlarvi dal vivo è diverso che non dietro una cam ma fotografia ai piatti macro così così questa un pochino meglio panificio mamma mia la pizza barese tantissima roba ne ho portata una a milano che mi mangerò adesso appena vi saluto e poi questo panificio non mi ricordo più come si chiama mi hanno portato fantastico camera anteriore con due di voi sono venuto da aula b giù a giù a bari abbastanza bene un smartwatch veramente allora applauso our way per gli smartwatch il watch fit è fantastico questo è una roba inguardabile arriverà la recensione per quanto riguarda foto e video anche qua ragazzi siamo da medio di gamma nulla di più non è un camera phone le foto per i social vanno abbastanza bene benino così cos'ha insomma vai di play alzo il volume è abbastanza alto è mono e soprattutto al jack per le cuffie direi bene anche da un punto di vista audio tutto un po' casca sul prezzo perché 229 euro rispetto ad altri competitor beh qua siamo fuori mercato secondo me ok che chi lo preordina entro il primo di novembre ha in regalo le free buzz 3 mi sembra che costa un intorno ai 100 140 euro 3 mesi di musica applicazione huawei 3 mesi di huawei video un mondo un videoregistrattore limpiando wifi e questa è una citazione che solo chi ha i capelli bianchi può capire ovviamente le ultime tre cose sono un po' una vena ironica ma boh speriamo davvero che si risolva il ban anche qualcom ha fatto appello per toglierlo rivolgo la huawei di una volta vedremo il mate 40 pro per adesso un saluto da andrea galeazzi.com